Se è vero quello che dice, non ho dubbio, l'avvocato, le cose sono grave. Abbiamo la telefonata, poi lo commenteremo ovviamente. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Salve, sono Mauro da Conetta. Prego, Mauro, mi sembra di capire. Tutto volevo dire buonasera a tutti quanti e volevo congratularvi soprattutto con i sindaci che sono lì in studio per le parole che naturalmente hanno detto e che hanno stilato con molta verità, senza perche' di questo riferimento. Scusi, signor Mauro, scusi, vediamo se riesco. Signor Mauro, la fermo un attimo, se riesci a staccarsi un attimino dal telefono, perché c'è un rimbombo, si abbassa il televisore, una delle due, perché altrimenti non la sentiamo bene. Le chiedo scusa. Mi sento adesso. Prego. Allora, innanzitutto volevo dire buonasera a tutti quanti e volevo congratularmi con i sindaci per le parole che hanno detto. Quello che mi dispiace è che queste persone sono impotenti verso il governo autistico, perché naturalmente fino adesso si parla di questo problema che è inmenso e qua continuano a connessa, a andare avanti e indietro con detenieri di calcestruzio che stanno naturalmente provvedendo a situazioni di alloghi che non si sa quante persone arriveranno a ospitare. Questa istituzione mi sembra che in questo caso non sia presente, perché molto probabilmente hanno scelto il nostro territorio di quattro vatti, perché addirittura 15 giorni fa, quando eravamo tutti quanti a Bagnoli di fronte ai tre sindaci, eravamo quasi più di 200 persone, quindi siamo impoti per protestare e per dare forza a una barricata ad un problema di questo genere. Io credo che ci saranno poche soluzioni a riguardo, perché in questo momento Aconezza non vede altro che una situazione di allargamento per ospitare persone. Grazie, è stato molto chiaro, volete rispondere, Panfino vuole rispondere al nostro telespettatore? L'osservazione è, da qualunque parte si è detto che con Etta non deve esistere, nel senso che la commissione di inchiesta parlamentare, tutti i partiti, chiunque ha detto che non deve esistere, ma perché continuano ad arrivare e si continuano a fare investimenti in quel posto lì? Quindi, punto di domanda, allora io ho chiesto al Ministro Minniti che il primo atto che lui deve fare deve impedire l'installazione dei prefabbricati giganteschi per dare stabilità a quella concentrazione lì. Vediamo che se di fronte a questo impegno lo porterà avanti, perché sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà dire sì, mentre sia il Comune che la Regione ha detto no. Dopo rispondiamo ovviamente anche all'Avvocato, alle dichiarazioni che ha fatto per quanto riguarda soprattutto il campo di Cone, che le donne potrebbero essere oggetto di tratta e anche di prostituzione, mi sembra di intuire quello che ha detto. Però ritorniamo al sondaggio, cosa faresti se al tuo Comune venissero assegnati i migranti? Vedete che la maggior parte, anzi la maggior parte, qui hanno votato quasi tutti i cittadini di Cona, 185 persone hanno detto che alzerebbe una barriera, mentre 17 solo li accoglierebbe. Dunque vedete la disparità, io credo che questi numeri vengano dati anche da una situazione davvero di stanchezza, Roberto Milan, che sicuramente i cittadini hanno, mi sembra sia abbastanza plausibile, insomma dai risultati di questo sondaggio c'è una disparità incredibile. Ma certo, questi sono esempi... La stanchezza viene a far sì che qualcuno non sia più umanitario e che non cerchi nemmeno più di aiutare, arriva proprio una stanchezza esausta che, come diceva prima lei, qualsiasi soluzione è giusta per mandarli via più o meno. Ma guardi, avere delle problematiche di questo tipo e che perdurano anche nel tempo, sono due anni che noi affrontiamo su ogni tavola istituzionale, con ogni modo, questo problema e avere così poche risposte, anzi nessun miglioramento delle nostre condizioni, è veramente demotivante. Per questo non ci deve far perdere la speranza e la prospettiva che noi non possiamo rassegnarci. Ma una speranza, dovete essere bravi voi a non farla perdere ai vostri cittadini? Ma certamente, per questo che noi sabato scendiamo ancora a manifestare, per la tutela del nostro territorio, perché queste condizioni devono cambiare velocemente. La disaffezione verso le istituzioni... Scusa se ne interrompo di Lepa, figlio. Vi faccio una domanda a bassa voce. Ma come pensate che questa situazione venga migliorata quando i centri di accoglienza vengono migliorati? Cioè, un paio di mesi fa, le situazioni di Cono e di Magnoli hanno davvero precarie, al limite della sopportazione umana. Poi, dopo la morte di questa povera ragazza, c'è stato un via vai di miglioramento. Invece che sbaraccare tutto, c'è stato un miglioramento. Come pensa di trovare una soluzione quando arrivano casette, si stanno sistemando i servizi igienici, stanno cercando di fare integrazioni con i ragazzi? Come cercate, come riuscirete? La domanda mia mi sembra talmente normale che delle volte è difficile trovare anche una risposta. Trovare soluzioni? Vede, mantenere, sbagliare, io penso che sia umano, ma continuare a sbagliare nel metodo della gestione dei migranti è probabilmente diabolico. Quindi ci rendiamo conto che mantenere in questo stato, questo territorio, fa proprio un esempio così negativo che mette in luce la drammaticità dell'istituzione statale. Su questo, vede, è difficile trovare degli esempi più negativi in tutta Italia. Ho capito benissimo. Ed è per questo che noi comunque dobbiamo avere questa prospettiva. in tutte le maniere noi sindaci cerchiamo di far leva su questa ingerenza statale. Con tutti gli atti, anche questo nuovo atto che porterò per far valere la legge 28... Ecco, la Regione è vicina al vostro problema. La Regione è vicina, capisce che è un problema scottante. Non possiamo però dire che fino adesso qualcuno ha risolto le nostre problematiche. Ma neanche i parlamentari che sono venuti, tutti quanti una bella pacca sulla spalla. Sì, è vero, non va bene così. Anche i parlamentari del governo che sostiene questo governo. Ma allora mi dico, io chiedo a tutti quelli che sono venuti a Cona, Conetta, di tutti i partiti, un bel esame di coscienza deve essere fatto a 360 gradi proprio. E il fallimento della politica... Ma nessuno il Parlamento ha posto il vostro problema dei cori di Bagnoli. Sì, sì, più volte. E le risposte? In diversi partiti, di diverse connotazioni di colori politici. E le risposte? Che effettivamente questi centri dovranno essere chiusi, ma noi aspettiamo da due anni. Vede, quando si raggiungono determinati livelli di esasperazione, è evidente che a Bagnoli, che a Conetta, che a Agna, l'esasperazione a livelli alti, io non penso a rassegnazione. Io, guardi, è la cosa che odio più di tutto, è la rassegnazione. Perché noi siamo delle persone miti, umane, capiamo i lati umani, anche di questa problematica, di questo fenomeno. Ma ci crediamo in tutto il nostro territorio. L'ho capito, solo che non riesco a capire come, vista la situazione. Paffino è molto più pragmatico, dice, io non la vedo. Mentre Mila la vede, però non riusciamo a trovare la soluzione. Leggiamo poi i messaggi, poi continueremo il ragionamento. Vediamo un po', ne sono arrivati, ne arrivano tantissimi mari, quelli di Bagnoli non sono andati in piazza, in comune per il collegamento nostro, però ci mandano messaggi. Perché non si organizza una manifestazione a livello regionale? Tutti i comuni, sindaci e popolo bisogna fare gruppo per far capire ai politici che non se ne rendono conto. Dice praticamente, facciamo una manifestazione regionale, magari andate fino a Roma, io giungo sarebbe mica male, solo che è impegnativa, però sarebbe una delle soluzioni. Leggiamo un altro messaggio. A Recuaro Terme c'è un gruppo spontaneo e attivo che ha riconsegnato le tessere elettorali, contattatemi e unitevi, facciamo una catena umana. Questo è un consiglio che vi dà un cittadino di Recuaro. Andiamo avanti. I preti hanno una forte dose di responsabilità, si prestano tanto per questi profughi, mentre i nostri poveri raccattano qualcosa nei cassonetti. Andiamo avanti, vedete la situazione sicuramente non è delle migliori. Sindaci, non ascoltate chi vi accusa, siete l'unica speranza che abbiamo. La gente che critica farebbe bene a scendere in piazza e a protestare quando serve. Ovviamente c'è un plebiscito per voi, è chiaro questo, però la soluzione bisognerà purtrovarla a Panfiglio. La soluzione è sul piano politico che lei ci ha invitato a sottolineare. Allora io vorrei da una classe politica degna di questo nome, che sia al governo o che sia all'opposizione, che parlasse di soluzioni a un problema. Perché se continuiamo a sottolineare che esiste un problema, mi sa tanto che andiamo in cerca del consenso elettorale, visto che qua si vota ormai in Europa ogni 7-8 mesi. Io vorrei una classe politica di opposizione e di governo che dicesse qual è l'azione fattiva per risolvere un caso come Kona e come Bagnoli. Io queste parole non le ho ancora sentite da nessuno. Aggiungo che invito tutti a andare a leggere il verbale di quel incontro stato-regioni di aprile 2014 e di leggere qual è stato l'intervento rispetto al problema della distribuzione diffusa della Regione Veneto. Io invito i cittadini a leggerlo e se non lo trovano è perché non c'è stato nessun intervento. Allora, Panfiglio, per sensibilizzare questi politici cosa si può fare? Perché è una delle soluzioni che può trovare una soluzione per quanto riguarda Kona e Bagnoli. Come si può fare per sensibilizzare? Uno proponeva facciamo una manifestazione regionale, un altro ha andato... Cosa bisogna fare visto che la situazione potrebbe diventare drammatica? È un dubbio che da un certo punto di vista politico oggi che è rincorrere il voto e non risolvere il problema del cittadino sia quello che Kona e Bagnoli servono a tutti. Convengono a tutti quanti perché ovviamente si marcia su sto fatto qua. Da una parte c'è incapacità di risoluzione perché chi è il governo che è stato votato, non votato, non importa. C'è un governo che ha la responsabilità. Ma è possibile che sia io il sindaco di Kona che vado a offrire a un tavolo delle soluzioni e le indico, ma è incredibile una cosa del genere. Dovrebbero essere persone che più di me hanno questa capacità e non lo fanno. E non lo fanno. A qualsiasi livello non lo fanno. Quando siamo andati a Montecitorio a portare un filmato documentario su 4-5 buone pratiche rispetto a questo. Sa quanti parlamentari c'erano a vedere questo documento che era importante per capire cosa si potrebbe fare. Ci siamo fatti andata e ritorno in Pulman da Roma per farlo. C'era un unico parlamentare. Questo è l'interesse che ha la classe dirigente di questo paese rispetto a questa problematica. Siamo andati a dirgli cosa si dovrebbe fare. E c'era un solo parlamentare. Il pensiero che mi viene da dire è che, ripeto e ridico quello che ha detto il cittadino di Cona, che modernamente essendo due paesi Mila con pochi abitanti non interessa a nessuno la soluzione. Siete di pochi che votate, siete di poco interesse nazionale e regionale. Quindi mi sembra da quello che ha detto il cittadino di Cona che sia una delle realtà più ragionevoli, perché non ne vedo altre. L'unico problema è, come diceva il sindaco Mila, che la gente non si arrabbi e comincia a dar via e a fare cose che non dovrebbe fare, insomma. Beh, in queste situazioni effettivamente è tirata molto. Soprattutto quando abbiamo casi di aggressione. Potrebbe essere solo questa persona che si è comportata male. Però è inconcepibile avere 800 persone ferme due anni, due anni e mezzo, non fare nulla. quando invece abbiamo cittadini che sono effettivamente obberati dalle tasse che tirano veramente tutto il giorno per lavorare, hanno famiglie e vedere nell'ozio persone mantenute in questa situazione qua fa elevare ancora di più la rabbia. Sentami, la prima, la signora Monica, mi sembra da Bagnoli, diceva io ho paura di andare a fare la passeggiata, la camminata, la corsa. E com'è la situazione dei migranti? Possono uscire quando vogliono, dal centro di notte possono uscire, anche di notte hanno la libertà, non hanno orari, non hanno pre loro, possono uscire e quando decidono, quando vogliono, insomma. Sì, c'è una chiusura dei cancelli alle 23, però nella sostanza delle cose abbiamo sempre visto migranti anche intanto la notte. Effettivamente dobbiamo ringraziare... Per fortuna pochissimi, ecco, ripeto, abbiamo avuto queste due aggressioni nell'ultimo mese e sono quelle che hanno impensierito, hanno toccato nel profondo. Ecco, questa è la condizione attuale. Il livello di insicurezza c'è, è palese. La presenza delle forze dell'ordine c'è anche, però capisce bene che 800 migranti non possono essere controllati in un territorio del Comune di Bagnoli, sopra 35 chilometri quadrati. Ecco, se aggiungiamo ovviamente i paesi limitrofi... Prima era partito con un'enfasi davvero di critica, adesso mi sembra quasi rassegnato, sin dall'avessere... No, io non sono rassegnato. Mi sembra che abbia passato la guardia un po'. No, perché lei effettivamente pone la questione come si risolverà, ma lo chiede a noi, capisce che... Siccome ha detto bene, lo risolveremo o così o colato. Io non voglio pensare che questo è il futuro di Conetta e di San Siro. Io non voglio pensarlo. Cioè, è insostenibile un pensiero del genere, con 800 migranti a Conetta e 1.200... E 2.000 sono... Ecco, e quindi capisce bene che se... Lei mi dice come risolviamo, ma... La complessità di questo fenomeno... Due sindaci, tre sindaci lo risolvono? Certamente se iniziamo a ragionare con logica, dobbiamo arrivare sul servizio che avete mandato all'inizio, a capire chi sono quelle navi, che cosa stanno facendo. Se sono navi umanitarie... Navi umanitarie... Ma sapete in Africa quanta umanità c'è necessità? Ma vogliamo fare l'umanità in Africa? Mi fai vedere, Regia, la quale... Vogliamo parlare di umanità? Ecco lei, questa... Perché a volte si utilizzano dei termini per nascondere e dolcificare delle tratte. Per me questa è una nave da tratta... No, per vedere la nave nel preparare questa tradizione... Non una nave mercantile, ma questa è una nave di una tratta di persone. Certo, ma ne preparate... Quindi io veramente utilizzerei i termini e le parole correttamente. I flussi finanziari... Dove sono? In tutta Europa sono tracciati. Dunque, quali sono? Da che cassa arrivano questi fondi che pagano queste navi? Allora, se li chiede il sindaco dei bagnoli di Conan, non lo può fare. Ma qualcuno invece che ha questa capacità lo può fare da dove arrivano i denari che pagano il conto. Ecco, queste navi, e le abbiamo fatto per chi si fosse collegato ora, queste navi le abbiamo fatte vedere all'inizio. Fanno un via vai, sono sei praticamente, che quotidianamente vanno avanti, indietro. Fatevi vedere l'acquario che è la prima che abbiamo visto e poi fate vedere che è il trecito. Perché quando ho preparato questa trammissione, mi sono posto il problema e mi sono chiesto ma santo Dio, si fermano proprio a 50 miglia della costa, 10 miglia della costa? Perché? Perché non arrivano fino alla costa? Perché non portano i migranti in altre? Cioè, che gioco c'è dietro? Eccoli, guardate. La riproponiamo perché è di una curiosità, ormai l'avete visto e rivisto, però è di una curiosità inaudita e da qui nascono, presumo io, cari sindaci, le risposte. Le navi partono, arrivano in quel punto che si ferma ora la nave, arrivano a 10 miglia, 15 miglia dalla costa, 40 chilometri, 50 quelli che sono. Vedete, il flusso è lì, perché è in tempo quasi reale, quando l'abbiamo registrato, perché è un satellite che ne inquadra tutte, eccolo qui, e poi caricano quotidianamente i migranti e fanno la spola. Queste navi vengono definite navi umanitarie e quindi all'interno dovrebbero esserci dei volontari. Però queste navi costano da una media di 350.000 a 400.000 euro al mese e quindi dovrebbe dire quasi 5 milioni di euro all'anno. E dovrebbero raggiungere obbligatoriamente il porto più vicino. Dovrebbero, in effetti l'ha appena detto, e non vanno in Tunisia, per esempio. Se mi fai vedere la cartina, Marco, dovrebbero, in teoria, anzi in pratica, proprio per il fatto di salvare i migranti, no, no, quella del grafico di prima, qui vediamo tutte le navi che sono in movimento, in questo caso nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tanti altri mari. Però, se vediamo invece quelle con il tracciato, ecco, bravo, fermo lì, no, vai indietro un po', vai indietro, perché come diceva giustamente Panfiglio, va un attimo indietro con il filmato, bravo. Vedete, loro dovrebbero andare, in Tunisia dovrebbero andare a smarcare, nella costa più vicina, giusto? Invece, partono, arrivano poi tutti dall'Eritrea, da tutti gli stati africani, arrivano in Libia, proprio, ormai lì è proprio un centro commerciale, è giusto definirlo così, un punto economico, dove lì devono fare quello, perché le navi non possono attraccare, ma devono attendere i gommoni a 10 miglia dalla costa, ed è un sistema che sta andando tutti i giorni, e il vero detto è che quelle navi sono navi umanitari. Ma mai nessuno si è chiesto, dico, dei politici, delle persone? Allora, io invito qualsiasi politico che voglia prendersi queste ondere, a chiedere dove e come vengono spesi i soldi per le emissioni Frontex, Sofia, eccetera. Dome e come vengono spesi questi soldi? Perché, in parte, dovevano anche occuparsi di rimpatri veloci. Mi sembra che invece, col discorso, hanno invertito la rotta, usando un termine proprio di mare. Hanno invertito la rotta. Qualche politico faccia una richiesta per sapere se questi fondi europei e queste strutture stanno pagando queste navi. Ma ai comuni qualche rimborso economico viene dato dall'Europa, dallo Stato, in virtù di quello? Per esempio a Cona e a Bagnoli lo Stato dà qualcosa al Comune per l'occupamento del suolo di questi migranti, oppure no? No. Sono basi statali. Quindi... Ma vivono sul territorio, quindi... No. Hanno promesso e il bonus fa riferimento alla normativa a un decreto di ottobre 2016, se non vado errato, e dunque l'hanno approvato, l'hanno, come abbiamo già detto, così pomposamente annunciato e non è arrivato nessun documento e nessun denaro. sentite, domani mattina bisogna alzarsi di nuovo e cosa farete? Domani mattina inizia di nuovo la battaglia contro quello che sta succedendo nei vostri paesi. È una battaglia infinita. Cosa farete domani mattina? Guardi, il mio intervento ultimo è stato quello di portare qui un'associazione non governativa argentina che vuole aprire un corridoio umanitario e cioè vuole portare dei profughi da Conetta in Argentina. Sto riassumendo per ragioni di tempo il problema l'ho passato alla prefettura e di conseguenza al ministro degli interni con che documenti possono raggiungere un altro stato. Questo stiamo facendo. Stiamo cercando dappertutto soluzioni. Con il prefetto di Pado e Venezia avete parlato avete cercato di trovare un associo visto che a Pado è cambiato da poco tra l'altro anche a Venezia. Anche a Venezia, esatto. Ho cercato subito dei rapporti per far vedere la condizione è venuto ultimamente dopo il caso della seconda aggressione ci ho parlato ho detto della gravissima situazione e condizione di questo territorio fino ad adesso ancora nessuna risposta. Quello che farò che cerchiamo di fare ogni mattina è cercare di capire qualsiasi strada per far leva e per cercare di far chiudere questi due centri. l'ultima appunto sto preparando per il consiglio di venerdì questa far valere la legge 28 sulla tutela delle comunità di manioli di sopra per rendere evidente questo ci crede molto in quello che potrebbe accadere da venerdì mi sento ma guardi andiamo a toccare i diritti dell'uomo i diritti delle comunità è una legge regionale e per questo che invito il consiglio regionale a prendersi carico di questa delibera e di tutelare i territori del comune di Bagnani di sopra come del territorio di Agna e di Cona perché questa è un'ingerenza importante noi siamo una comunità che va rispettata ci sono dei diritti della comunità che sono stati violati e qualsiasi modo di appiglio e regola e norma regionale e anche internazionale come la convenzione del quadro per il diritto di tutela delle minoranze ecco va rispettata e tutelata quindi in qualsiasi modo ci crede va bene andiamo a vedere i messaggi sono arrivati ancora leggiamo gli altri 4 Dennis dalla regia eccolo qui questo è lunghissimo ci hanno insegnato che si deve essere il bene e il male che dobbiamo avere dei nemici che sono quelli diversi da noi ma siamo tutti persone indipendentemente da dove arriviamo stanno cercando di creare tra di noi dei nemici perché se hai nemici hai paura e se hai paura hai bisogno di uno che ti comanda in questa maniera si alimenta un potere credo che come concetto non sia ineccepibile davvero complimenti a chi l'ha mandato vediamo un abbraccio ai due sindaci presenti in studio ai quali non potendo far altro offro moralmente il mio sostegno Fiorella da Rovigo grazie andiamo avanti eccolo qui intanto oggi tra caccia e struzzo e due casette già arrivate fognatura e acqua per 3.000 persone vedete stanno io presumo nei vostri centri adesso non so in quali dei due si riferisce questo messaggio dietro ci sono troppi interessi ci sono interessi troppo grossi di cui ovviamente siamo all'oscuro più grossi dei sindaci più grossi dei governi diamo responsabilità a chi invece non può fare nulla come i poveri sindaci credo che siano sicuramente messaggi di solidarietà nei nostri confronti e su questo non ci sono dubbi sono due contro tutti i due che rappresentano due paesi ovviamente vediamo il sondaggio perché si è concluso l'abbiamo chiuso alle 22.45 vi ricordo che siamo in rigorosa diretta cosa fareste se al tuo comune venissero assegnati dei migranti ovviamente la proporzione non c'è 191 direbbero che alzerebbero delle barriere 19 invece li accoglierebbe io credo che ci vorrebbe un po' di umanità anche in questo senso però credo che questo voto sia determinato da tanta rabbia perché poi sono persone anche loro insomma al di là che come diceva prima il sindaco Mila credo a microfoni spenti sono usati anche loro presumo da questo sistema che sta diventando davvero pesante certo sono usati e non hanno nessun futuro insisto anche chi fa accoglienza diffusa io ho sei persone che verifico tutti i giorni se possono fare un lavoro purtroppo devo dire che forse forse ho solo una di quelle persone potrebbe trovare un posto di lavoro qui perché ci sarebbe necessità di un impegno notevolissimo per poter formare queste persone se domani vanno fuori dalla protezione non avranno nessuna opzione per trovare un posto di lavoro senza lavoro non c'è dignità e dunque è impossibile fare integrazione ascoltate questo problema a livelli mondiali perché a livello in questo caso europeo ma è un problema mondiale bisognerà anche un giorno imparare a conviverci a determinare le regole perché il mondo sta cambiando e quindi questi di paesi dell'Africa dell'Ord Africa dei paesi dove c'è dove sono veramente profughi anche altri andranno e scapperanno dai loro paesi bisognerà davvero trovare una regola per farli convivere con gli altri cioè il mondo si sta globalizzando quindi bisognerà pure iniziare un percorso diverso oppure reputate che non succederà mai ma guardi stiamo parlando effettivamente di scenari importanti e internazionali e noi quello che chiediamo è che venga gestito bene il territorio e se vogliamo parlare di fenomeni complessi come le migrazioni che sono sempre avvenute ma sempre nella naturalità delle cose non abbiamo mai almeno che so io un esempio in cui un migrante abbia ci sia stanziato 35 euro al giorno per dei migranti nella storia insomma che abbiamo visto come i nostri connazionali ecco capisce che ricordiamo che 35 migranti vanno alla cooperativa non vanno direttamente a loro ma allora ma vede che si crea effettivamente l'interesse perché ci siano i migranti vogliamo interrompere questo meccanismo o vogliamo creare della naturalità dei flussi migratori se non ci sono più se verrà un momento in cui non ci saranno più i 35 euro secondo lei avremo ancora quelle navi no non le è più non le è più ma secondo lei arriveranno effettivamente ancora un numero così elevato di migranti oddio andranno dove ci sono i 35 euro presumo andranno dove verranno presi dove li vanno a prendere ricordiamoci che voi siete partiti molto bene con un servizio interessantissimo che è arrivato al punto del problema e vogliamo chiudere anche correttamente questi 35 euro effettivamente come ha detto lei non vanno ai migranti ma vanno a chi vuole che ci siano i migranti i flussi migratori ma è una cosa i flussi migratori normali naturali un'altra cosa distorcere tutto quanto il fenomeno migranti inoculando grossi somme di denaro ecco e questo è la distorsione la distorsione del caso Bagnoli-Cona la distorsione di questi flussi di persone che sono manovrate effettivamente dal dio denaro credo sia chiaro che la situazione bisognerebbe capire un po' se un giorno termineranno i denari oppure se un giorno la politica l'Europa riuscirà a trovare una soluzione per far star bene anche questi non farli vivere in determinate maniere e far star bene anche dei paesi piccoli come i vostri dove oggi stanno diventando invivibili davvero il sondaggio l'abbiamo visto l'abbiamo l'abbiamo chiuso siamo in conclusione di trasmissione credo sia stata una trasmissione interessante io mi auguro Paffiglio Emilia che venga trovata una soluzione io sono sicuro che è difficilissimo però prima o dopo si dovrà trovare una soluzione dove duemila migranti non possono vivere in due paesi che ne hanno pochi di più insomma adesso senza stare qui a fare i numeri esatti e credo sia una soluzione che dovrà trovare una risposta in tempi rapidi però mi sembra come ha detto prima lei che sia comunque una soluzione difficile da trovare è così perché ci sarà sempre il rimbalzo delle responsabilità ci sono i migranti non fai accoglienza diffusa non li so dove mettere li lascio a Cona se non usciamo da questo triangolo non ne vediamo mai fuori allora ricordiammi c'è la proposta che farà lei in consiglio venerdì che è una proposta molto interessante c'è la manifestazione vogliamo ricordare dove è la manifestazione sabato davanti al municipio di Bagnoli dalle 6 e mezza si passeggerà fino a piazza di sorgimento a San Siro 18 e 30 l'incontro davanti al municipio assieme a Cona tutti assieme tutti assieme farete questo dunque Cona Bagnoli Agna tutti assieme insieme la parola insieme deve essere sottolineata lasciamo stare per chi e per cosa è un problema comune da qualunque punti lo si guardi e quindi possono arrivare anche da Recoaro come ha detto il telespettatore di prima vi aspettiamo per dare una mano a voi sindaci e a vostri cittadini per sostenere i cittadini dei nostri comuni certo per sostenere i cittadini i cittadini che noi rappresentiamo sicuramente vabbè siamo arrivati alla conclusione di questa puntata interessante ovviamente ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguito io ringrazio il sindaco che l'ho visto questa sera più agorito che mai di Bagnoli Roberto Mila ringrazio invece questa sera lui ha detto Paffino è stato un po' più tranquillo da volte sarà via più lui e vi siete scambiati i ruoli questo sera ringrazio tutti quelli che hanno votato il nostro sondaggio sulla pagina Facebook sulla pagina di iRapporter ringrazio ovviamente la regia e tutti i tecnici io vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Interpares buonanotte a tutti e due buonanotte a tutti i tecnici a tutti i tecnici a tutti i tecnici